Ed eccoci qua, rieccoci, buon santo Stefano a tutti, ancora buon Natale, passatevi al meglio queste feste, quindi in compagnia dei vostri parenti, dei vostri familiari. La cosa principale è questa, il lotto sapete che passa in secondo piano, ma sabato 24 sono rimasto veramente male perché sto 73 ancora non è arrivato a Firenze, il 90 va bene, lo sappiamo, prende qualche pausa, poi ritorna il suo ciclo e vedrete che questa settimana ritornerà di nuovo il 90. Su quali ruote? Ebbè, io ho dato 4 ruote, le solite di sempre, quella con la classifica integrale del 90, poi le rivediamo insieme. Le ambate contate vostre stanno andando avanti a gonfie vele, le vedremo alcune adesso. Io per non incasinarmi con i messaggi ho cancellato qualche messaggio che purtroppo, se io andavo un po' più in alto scorrevo il messaggio, c'erano dei vostri cedolini, li ho cancellati per sbaglio perché poi per non intesare la memoria io cancello i messaggi. Mandatevi, mandatemi il 4 e 7 su Milano, il 4 e 7 perché poi vi faccio vedere perché è 4 e 7, perché ce n'erano veramente tanti, 7, 8, 10 scontrini con l'ambata contata ed eravate entusiasti perché c'era proprio quel 4 e 7 che poi lo vediamo insieme. Da dove proveniva? Al primo colpo l'ha dato secco su Milano, quindi indifferentemente dalle previsioni che vengono date anche su altri canali, indifferentemente quindi da quello che vi calcolate, l'ambata contata ve l'ho sempre detto. E la prova nel 9, ve lo dimostrerò ancora una volta, quindi i numeri vanno a collocarsi proprio su quella ruota e perché vanno a collocarsi lì. Un'altra cosa, allora io ho dato una nuova previsione adesso, poi la vedremo insieme, quindi sarò breve, molto breve. Come vi ripeto, sono il primo a rimanerci male quando un'estrazione va male. Il 73, 90 comunque rimane aperto Firenze e Venezia, quello sì, quindi il 73, 90 se volete ancora giocarlo. E il 37, 73 Bari-Venezia era un quinto colpo sabato scorso. Non è detto che possa arrivare qualcosa ancora su Bari-Venezia con il 37, 73. Comunque, gli ultimi colpi di gioco questo mese siamo, se non sbaglio, a 12 estrazioni. Ce l'ho davanti, sì, siamo a 12 estrazioni domani sera, questo mese ne ha 14, quindi abbiamo ancora tre occasioni per sia il 73, 90 Firenze-Venezia e poi quel 37, 73 Bari-Venezia, se volete continuarlo, proseguitelo, poi gli ultimi tre colpi di questo mese, poi basta. Allora, io ho dato una nuova previsione, bellissima, l'ho cambiata anche nel gruppo Telegram, Whatsapp, scusate. Tante belle condizioni ci sono, però prima, per farvi vedere come l'ammata contata è potentissima, quindi vedete, personali, ve l'ho detto anche nel video precedente, se non si vince qui su YouTube, fatevi l'ammata contata. Allora, guardate qua, 77, quindi 55, 60, 65, 70, 75, 76, 77, Milano-Napoli 77, o 77 o 79 Milano-Napoli. Poi, questo 7 di Milano, no questo di Firenze, perché questo di Firenze non ci arriva, 7, vedete, 5, 6, 7 che si ferma a Genova, ma questo di Milano, 5, 6 e 7, ritorna a Milano-Napoli e c'è pure il 4, peccato se tu ti accorgevi del 4, andavi a fare un terno col 77, guardate qua, quindi un colpo solo, il 7 ritorna a Milano-Napoli, il 77 di Venezia va a Milano-Napoli, guardate qua, primo colpo, 7, 77, ma guardate, c'è anche il 4 di Napoli, che rimane incastrato proprio su Napoli e Milano, quindi, se voi fate la conta, 4, quindi 4 Milano-Napoli, guardate, c'è anche il 4, che peccato davvero, se no c'era un terno, e guardate qua, scontrino, 7, 77, bellissimo Ambo, bellissimo Ambo, ma, se c'era l'aggiunta del 4, c'era un bellissimo terno in cinquina, e guardate che con l'8 più pagava bene, quindi attenzione a questi errori, e 4 e 7, se noi invece riportiamo, guardate qua, torniamo indietro il 4, per farvi vedere il tutto, quindi molto bene specificato, vi ricordate cosa vi ho detto, se non si vince in pubblico, fatevi la amata in contatto, perché questa è una previsione veramente fortissima, questa qua, vedete, sono tutte ottime le previsioni, ma penso che, se ve la fate personalmente, quindi probabilmente a meno peso, e probabilmente potrà uscire subito, queste sono ipotesi, ma tutto sbagliato non è, quindi, 4 e 7, guardate il 4 e 7, il 7 ritorna a Napoli-Milano, il 4 ritorna a Napoli-Milano, il 77, e quindi va Milano-Napoli, guardate un po', 4, 7 e 77, 4, 7 e 77, poi, andiamo a vedere gli altri scontrini, che, come vi ripeto, se riuscite a mandarmeli, poi li vediamo, allora, 4 Milano-Napoli, ecco il famoso 4, insieme al 7 e al 77, Milano-Napoli, poi c'è l'8, Genova-Palermo, quindi rimettiamo il quadro estrazionale, andiamo a vedere dove cavolo arrivava sto 8, e lo andiamo a vedere subito, allora, bello l'8, l'8 c'è sempre, quindi del 17 di sempre, non quello che vi ho fatto vedere prima, quindi quello del Napoli, l'8 del Napoli, guardate, 5, 6, 7, 8, Palermo-Genova, Palermo-Genova, quanti colpi ci ha messo? 1, 2, 3, 3 colpi, ecco l'8 a Genova, e infatti l'8 a Genova, quindi 4 Milano-Napoli, l'8 Genova-Palermo, due vincite in una, avete visto? Poi mi mancano quelli del 4 e 7, che ce n'erano veramente tantissimi, tantissimi, perché c'era una previsione collegata ad altre previsioni di qualche altra persona che ha dato questi numeri, però mi avete anche comunicato che tanti di voi hanno fatto anche con l'ambata contata, quindi sia uno che in un altro modo, comunque sia, come vi dicevo, l'ambata contata, la prova del 9, che come vi dico sempre, se le previsioni sono date da altri otologi, da altre persone che studiano, e quindi voi le andate a confrontare con l'ambata contata, l'ambata contata, come vi dicevo, è sempre la prova del 9, è sempre la prova del 9, quindi quello che voi giocate, da dove arrivano, chi che sia, l'ambata contata ve le fa venire come risultato, quindi la verifica, poche parole nella verifica. Quindi del 4 e del 7 mandatemeli, che sono quel 4 e 7, come vi ripeto, che sono questi qua, del 22 dicembre, 4 del Napoli che ritorna Milano-Napoli, 7 di Milano che ritorna Milano-Napoli, quindi attenzione, ho vistovi, vi siete già fatti i vostri calcoli, con l'8 di Genova che Milano, questi ritornano di nuovo su Milano-Napoli, anche il 9, anche il 2, però attenzione, possono arrivare anche i loro vertibili, quindi non è detto che arrivando al 4 e 7, adesso possono arrivare 40, 70, 20 e 80 o 90, avete capito? Quindi attenzione, tutto si gira, quindi l'ambata contata resetta un po' tutte quelle situazioni, anche come vertibili. Allora, non mi voglio dilungare, la previsione come vi dicevo, quella del 73 ragazzi, se volete dargli veramente un'ultima straccata veramente questa settimana qua, poi veramente lasciatelo perché se diventa lunga poi è un pacciocco. Allora, io vi lascio la nuova previsione, vado sul veloce perché poi ho da fare ancora un po' di cose. Allora, la classifica integrale rimane questa, Cagliari, Firenze, Torino e Venezia, come vi ripeto, il 73 e 90, Firenze e Venezia, apertissima. Vedrete che questo 90 ritornerà alla carica questa settimana e vedrete che probabilmente una di queste quattro ruote, o più di una di queste quattro ruote, andrà a segno il 90, speriamo. Alla fine adesso, come vi dicevo, la classifica è sempre andata bene. Vedremo se sarà così. Primaria la Firenze, vi dicevo allora. Oh ragazzi, 21 e 66, 11, 5 e 63 sono usciti tutti, sia per il 73 e 90. Sono menoso a rispettare queste cose, però quando non ci sono dei risultati, ma quella è la previsione, che vedevo di... Tale rimane e purtroppo quando arriva in ritardo, poi arriva, ma in ritardo... Eh, lo so. Questo è il gioco dell'otto, non... Mi raccomando, moderazione, lo dico sempre. Non c'è certezza, però la strada improntata per il 90, ancora. Firenze e la primaria, è 15 e 73 anche, mi raccomando, non si sa mai. Se non volete giocare la ventina, giocate via almeno il 73 e 90, Firenze e Venezia, come ambo, eh. Quindi consigliato in Firenze e Venezia come ambo, ancora. Poi, la nuova previsione, eccola qua. Io ve la do, poi fate voi, eh. Quindi, questa è ottima veramente, perché adesso non vi faccio vedere tutti gli schemi in continuazione. Però, guardate, con posizione numeretti, con la matta contatta, questa qui è veramente bellissima. Quindi 2882, ambo primario, ma anche ambo e ambetto, Cagliari Torino. Quindi, due ruote, ambo e ambetto, 2882, abbinamenti, quindi l'uno e il dieci. Se volete fare la quartina Cagliari Torino, ambo e ambetto, caricate molto bene l'ambetto e l'ambo, e potete fare una quartina intera, eh, comunque. Ma questo 2882 si potrebbe ripetere su Cagliari Torino come ambo e ambetto. Quindi, attenzione, ambo primario è sempre questo, e poi l'ambetto. Questi sono gli unici due abbinamenti, quindi l'uno e il dieci. E poi, se potete fare gli ambi 28.1, 28.10, 82.1, 82.10, si può fare come ambo e ambetto. Poi fate voi, questa è un'unica previsione, ve l'ho detto. Se non volete proseguire il 73, come ultimi colpi finali di questo mese, quindi le ultime tre estrazioni, qui c'è questa previsione, ok? Nient'altro da aggiungere, ragazzi, come vi ripeto, sono prima a rimanerci male quando una previsione non esce, nonostante tutte le condizioni del caso che presentano situazioni veramente ottime, ottime. Siamo arrivati a 17.000, e a tutti voi 17.000, un grazie di cuore. Grazie, grazie, grazie. E ancora auguri a tutti voi. Ci risentiamo domani sera, probabilmente, se ci saranno i risultati. Se non ci saranno, poi ci sentiremo il giorno dopo. Va bene? Passatevi ancora delle buone feste, poi noi ci riaggiorniamo con le ultime news. Grazie a tutti. Da Marcus, buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao.